E' stata sicuramente una valtellina Summer League amara per la pallacanestro varese, che è tornata dalle tappe di Divigno e Sondrio con una doppia sconfitta sul groppone. La prima per 110-87, la seconda per 80-84. Tante le cose da sistemare ancora per coach Mandole, a partire da una fase difensiva che fatica ancora a mostrare i tanto spiccati miglioramenti rispetto alla passata stagione. Si attendono i veri Alviti e Brown, finora sottotono, mentre già è apparso chiaro come Fall faccia davvero fatica a giocare a questo livello. Prossimo appuntamento per i Biancorossi, venerdì 13 settembre, contro Minorca, l'Estreia Dam Cup, palla 2 alle ore 21.